Ragazzi buonasera a tutti, allora dopo un po' l'incazzatura di oggi pomeriggio, del pomeriggio tardi più che altro, domani ne faremo un altro di video nel quale parleremo meglio senza preoccupazioni particolari, senza allarmismi perché è un pareggio dopo comunque 10 vittorie di fila tra campionato e Champions League però sta di fatto che comunque le migliori, tra virgolette le migliori, le più tostie, le devi ancora affrontare a parte la Lazio, a parte il Napoli, quindi poi per carità ci sono altre squadre che dovrà affrontare il Napoli in casa loro, cioè come il Parma che l'ha battuto in casa però a Parma secondo me pochi vinceranno, parlo delle squadre forti, infatti secondo me la Lazio comunque domani faticherà, vabbè, detto questo io per quanto riguarda il Napoli non sono assolutamente sorpreso della sua vittoria, ha vinto 3-0, ho visto solo il secondo tempo, perché ho visto il secondo tempo per gufarlo, lo ammetto tranquillamente, era sopra di un gol, vabbè poi oggi pomeriggio facciamo sempre i messaggi Whatsapp io e Davide, sui pronostici a volte li azzecchiamo, a volte no, per quanto riguarda Juventus, avevo detto che, cioè più che altro io avevo detto per me vince a Juventus, ma era una speranza più che altro, perché sapevo, infatti gli ho scritto, dopo le soste siamo sempre di lì per non vincere le partite, quindi non sempre ti va bene, infatti, vabbè, poi per quanto riguarda il Napoli invece gli avevo scritto per me il Napoli vince facile, giustamente lui mi ha detto che mancava insigne, che in questo momento per me è il 50% d'attacco del Napoli, però gli avevo detto anche che l'Udinese contro i noi in casa loro non mi aveva dato una grande impressione, cioè di solito le squadre, anche quando perdono contro i noi in casa loro, comunque qualcosa di, cioè ci fanno soffrire per un po', per un po' parlo, non per tutta la partita, però per un po' ci fanno soffrire, invece l'Udinese zero, oggi l'Udinese ha avuto qualche palla a gol contro il Napoli, però se voi guardate, se voi guardavate più che altro, l'Udinese sotto di un gol attaccava con due attaccanti, cioè De Paul e Lasagna, ecco, questi due e basta, Fufana ha fatto una partita vergognosa, poi il Napoli era un po' in difficoltà, ma nel secondo tempo non ha neanche sofferto così tanto, un po' la partita che abbiamo fatto noi contro il Genoa nel secondo tempo, però alla fine il Napoli è uscito alla lunga, cioè, anche perché secondo me, sempre secondo me, perché lo sottolineo, perché poi dicono, eh ma pensi di essere no, io dico sempre secondo me, semplicemente perché poi passa sempre il messaggio che io penso di essere chissà chi no, ok, boh, e il Napoli ha cambiato marcia dopo i cambi di Ancelotti, perché oggi Ancelotti ha raddrizzato la partita, era sopra di un gol e basta, portarla così fino al novantesimo era un po' sofferente poi, e invece con il cambio, soprattutto di sì che ha messo Amsic, insomma, ho visto il Napoli che è cambiato totalmente, ha fatto il rigore, ah, tra l'altro c'è un rigore, siccome è presunto rigore anche a favore nostro oggi contro il Genoa, Ronaldo prende il pallone, fa il sombrero al giocatore, al volo così, e è vero che è tanto attaccato a Ronaldo, il braccio è attaccato al corpo, però quel pallone, cioè io, quando si parla di braccio, per me, deve essere sempre rigore, è sempre fallo, ok, perché in un qualche modo eviti l'uscita di un'azione, di una palla-gola, e lì Ronaldo aveva fatto il sombrero, questo qua è arrivato involontariamente, però comunque ha preso il pallone e ha deviato il pallone e l'azione della Juventus è sfumata praticamente. Comunque rigore per il Napoli netto, assolutamente, cioè sono rigori che veramente, poi parlano volontarietà o involontarietà, ma ovvio, cioè uno può dire è involontario, sì, però se tu, caro mio, stai col braccio largo, ma non può tagliarselo, ma quanti ragazzi? Cioè, un conto è se tu mi affronti l'avversario con le braccia dietro e ti arriva il pallone su questa parte, ma hai le braccia dietro, posso dire, vabbè, ha le braccia dietro, almeno che non faccia questo movimento qua per comunque deviare il pallone volontariamente, però di fatto non posso considerarlo volontario, ma se tu vai con le braccia aperte, perché se no, facendo questo ragionamento, diciamo, allora sono tutti stupidi i giocatori che si mettono sempre le braccia dietro, o no? Ecco, questo bisogna, comunque appunto il rigore per il Napoli c'era netto, poi il 3-0 chiuso perché ormai la gufata era andata a puttana, vabbè. Comunque anche il Napoli fino ai cambi di Ancelotti ha sofferto, quindi questo dimostra che dopo la sosta squadre come Juventus, Roma e Napoli, che avevano fatto comunque bene, a parte la Roma all'inizio, però avevano fatto bene fino a quel momento, la sosta ha un po' interrotto la marcia, più che altro mentale delle squadre e dei giocatori, perché poi comunque questo distacco di 4-5 giorni, una settimana, si fa sentire sull'archimia un po' di tutti i giocatori. E comunque il Napoli ha vinto questa cosa qui, però attenti perché, e lo dirò meglio domani, la Juventus ha pareggiato e non ha vinto contro il Genoa, giocando una partita buona nel primo tempo, nel secondo pessima. Il Napoli ha fatto il contrario praticamente, però nel primo tempo ha trovato il gol, questo ve lo racconto, ve lo dico semplicemente perché ho parlato con un sicco napoletano, poi ho visto qualche ai lights, e nel secondo tempo invece è calato un po', però poi ha chiuso la partita. Questo però è una spada di Damocle, come cazzo si dice, no? La Juventus adesso andrà a Manchester incazzata nera, e quindi sono cazzi per il Manchester, poi magari perdiamo e ragazzi ci saranno critiche giuste. Il Napoli va a Parigi con un 3-0, insomma, ottenuto non proprio splendidamente, però l'hanno ottenuto. L'Iancelotti, e qua sicuramente non ho dubbi, deve comunque tenere alta la concentrazione dei giocatori di Napoli, e soprattutto sottolineare gli errori che ha fatto il Napoli oggi. Cosa che penso Ancelotti faccia, perché comunque ha anni di esperienza rispetto a Sarri, e quindi, questo. E tutto questo ragazzi, fatemi sapere la vostra, se avete visto la partita, se no, no? Sicuramente fossimo stati noi, avrebbero parlato di Scans Udinese e quant'altro, poi è bello che, se non sbaglio, anche i tifosi dell'Udinese oggi hanno cantato tipo un coro sul Vesuvio, però ovviamente non tireranno fuori discorsi. Poi è bello il siparietto con i napoletani che cantano, tornerete in Serie B, i fiolani che rispondono ai napoletani, vincerete il Tricolor, fantastico, presi per il culo anche dei fiolani, vabbè, detto questo, vi auguro buonanotte a tutti, e sempre, fino a fine forse di vento, ci vediamo ovviamente domani.